Oggi qui si parla di buone pratiche nella comunicazione social, ad esempio come si gestiscono gli utenti cosiddetti problematici? L'Agenzia Territoriale per la Casa è presente sui social da alcuni anni, in modo particolare abbiamo notato che Facebook è il social che più ci permette di interagire con la nostra utenza e anzi è stato in questi anni un canale che ci ha permesso in modo più informale di trasmettere le informazioni ai nostri utenti e di interagire con loro che spesso sono magari più spaventati all'idea di mandare una mail e di non scrivere correttamente in italiano le informazioni di cui hanno bisogno ma vedono nei social un canale più informale dove invece possono confrontarsi ed essere indirizzati verso l'ufficio, lo sportello o il luogo dove ottenere le informazioni che cercano. E invece su Twitter, nella tua e nell'esperienza di altri colleghi, quanto è importante nel rapporto con i colleghi giornalisti la possibilità di avvisarli in tempo reale che è uscita una notizia, stiamo per pubblicare una notizia? Twitter sicuramente è un canale più istituzionale, quindi è il luogo dove le pubbliche amministrazioni parlano con le altre pubbliche amministrazioni o parlano con i giornalisti. Sicuramente è più immediato di un comunicato stampa, spesso anche più presidiato di una casella di post elettronica perché la timeline scorre sui cellulari di tutti noi e quindi tutti abbiamo modo di vederlo più in fretta spesso e quindi sicuramente questo ci può aiutare nella nostra attività di comunicazione per parlare con i giornali e anche con le altre pubbliche amministrazioni. E Whatsapp? Whatsapp può essere utile nell'attività di chat con il cittadino, quindi può offrire un servizio al cittadino. Come ATC l'abbiamo sperimentata con successo per il fenomeno delle auto abbandonate e quindi permettendo ai cittadini di fotografare la targa dell'auto in questione e di segnalarla noi alla Polizia Municipale in modo intuitivo con una chat che un po' tutti abbiamo sul nostro cellulare.